Come la democrazia è la democrazia? Ha un sistema politico e sociale, non basta che ci sia uno Stato democratico, deve essere una società democratica, un sistema politico e sociale che ci immaginiamo prodotto dal confluire di diverse e anche disparate tradizioni di pensiero e tradizioni politiche moderne. In ogni caso, senza stare a ripetere la storia del pensiero politico e la storia politica moderna, in ogni caso in questa complessità attuale della democrazia ci sono da distinguere i due contesti dentro i quali la democrazia di oggi è nata e il suo cuore teorico e pratico. I due contesti sono lo Stato e il capitalismo. La democrazia moderna esiste perché esistono due forze, la forza della statualità e la forza del capitale. E la democrazia moderna si è tutta svolta all'interno di queste forze per democratizzare lo Stato e per democratizzare il capitale. Con una eccezione che ormai possiamo riconoscere tale, cioè il marxismo, al quale però non ci possiamo richiamare in questa sede direttamente, ma nel marxismo la democrazia era per l'appunto il precipitato dello Stato e del capitale. E proprio per questo la democrazia andava rovesciata, perché era la forma politica dell'alienazione economica. Ma noi non siamo figli di questa tradizione, perché questa tradizione presa sul serio vuol dire andare al di là dello Stato, andare al di là del capitale e andare al di là della democrazia. Per qualche cosa che infatti non si definiva, la democrazia si definiva comunismo. Noi siamo dentro alla democratizzazione di due orizzonti, l'orizzonte dello Stato e l'orizzonte del capitale. Perché? In nome di che cosa si è potuta operare la democratizzazione, si è potuto tentare di operare la democratizzazione di questi due orizzonti? In nome del fatto che questi due orizzonti hanno mosso, hanno mobilitato quantità di persone, masse, strappandole sostanzialmente dalla terra e portandole dentro le dinamiche della società moderna, il capitale, e attraverso lotte, anche attraverso le dinamiche, anche dentro le dinamiche politiche, la cittadinanza e il diritto di voto. Noi siamo figli di questo, cioè Stato, capitale, che nelle loro dinamiche hanno, per forza, per esistere, non per beneficenza, per esistere, hanno dovuto coinvolgere, includere le masse degli uomini e delle donne e queste masse degli uomini e delle donne, una volta che sono state incluse, hanno chiesto, preteso e in certe parti del pianeta ottenuto, accesso alla cittadinanza politica e in parte alla cittadinanza economica. Il tutto, non il nome del popolo, non il nome del popolo, la democrazia è democratizzazione dello Stato, democratizzazione del capitale, ma non il nome del popolo, se non nella retorica politica. In realtà i valori ultimi e fondativi di questa accezione moderna di democrazia sono il cosiddetto principio personalistico. Non dovete pensare che io sia un cattolico e dunque sia un personalista nel senso filosofico del termine. Il principio personalistico è il principio sulla base del quale è impiantata la Costituzione, cioè l'uguaglianza di tutti i cittadini, un'uguaglianza non materiale, che è ridicolo, assurdo e forse non desiderabile, ma la pari dignità sociale, dice la Costituzione. Dove vedete che l'unità di misura e l'obiettivo rispetto al quale si orienta l'intero ordinamento della nostra Costituzione non è un generico popolo, ma è molto più specificamente per fare tutti i cittadini, ogni cittadino e tutti i cittadini, in quanto tutti dotati di una uguale dignità sociale. La democratizzazione dello Stato, la democratizzazione del capitale hanno l'obiettivo di costruire una forma politica e una forma sociale dentro le quali, forma politica e forma sociale, ci sia spazio per chiedere, esigere e ottenere una situazione di pari dignità sociale. Qui, come vedete, il popolo non c'entra più. Il popolo era un modo sintetico per definire i poveri nel mondo greco, la democrazia era il governo dei poveri contro il governo dei ricchi. Il popolo è un nome sintetico che si adopera in età moderna per operare queste, che vi ho definito, democratizzazioni dello Stato e del capitale. Queste democratizzazioni dette così sono una cosa leggera, in concreto sono delle rivoluzioni. E allora le rivoluzioni non le si può andare a fare dicendo noi siamo qui a operare la democratizzazione dello Stato. Vai e dici il popolo taglia la testa al re. Il popolo taglia la testa al re. Però il risultato è quello, non si può lavorare politicamente con il concetto di popolo se non in quel breve, tumultuoso e periodo ricco, enormemente ricco di energia politica che è la rivoluzione, cioè l'atto che rade al suolo un ordinamento per costruirne uno per l'appunto più democratico, ovvero sia uno in cui, può anche essere semplicemente più liberale, in ogni caso uno, un ordinamento in cui ci sia più spazio politico per più persone. Questo significa che al popolo è stato sostituito l'individuo uguale a tutti gli altri, che è già molto. Però significa anche, e questa è un'altra cosa molto importante, che il vero rischio che c'è in questo modo di ragionare, che è il nostro, che è il nostro, nostro, di noi moderni, di noi cittadini della Repubblica democratica italiana, è che si perda completamente la dimensione dinamica della politica. Questa politica è la politica che ha come obiettivo quello di farci essere tutti uguali, almeno in dignità. uno dei modi fondamentali per che ciò avvenga è l'impianto giuridico, per cui ci deve essere un sistema di codici, un sistema di ordinamenti giuridici che fondano e garantiscono questa uguaglianza, e poi c'è l'impianto dello Stato sociale. Allora, il rischio è che tutto ciò provochi, come dire, lo spegnimento della politica. Se la politica consiste nell'arrivare a una situazione di uguaglianza garantita dal diritto, da una parte, uguaglianza garantita dal Stato sociale, dall'altra, può darsi che sia molto noiosa, può darsi che sia molto più inerte che non energetica, e può darsi che se noi ci poniamo come obiettivo della politica soltanto questa accezione del termine democrazia, poi, quando tutto ciò viene meno per alcune circostanze che sono quelle nelle quali stiamo vivendo ora, non sappiamo più che cosa fare. Cioè, non c'è niente da fare. Dentro le dinamiche della politica moderna c'è una proiezione allo spegnimento della politica. E' così. Cioè, c'è una proiezione a perdere l'elemento che invece è strutturale della politica, non moderna, della politica in generale. Cioè, l'elemento della parzialità. E' un elemento che era chiarissimo al mondo antico. Quando un Aristotele dice la democrazia è il governo dei poveri, ah, perfettamente, lo diceva Aristotele, lo diceva Platone, lo diceva l'anonimo atteniese nel V secolo XX Cristo, sapeva benissimo che l'anima della politica, l'essenza della politica, sta nel conflitto. Poveri, contro. La democrazia moderna, invece, funziona, come vi abbiamo appena detto, attraverso la inclusione progressiva, sia chiaro, non automatica, con lotte terribili, ma insomma, l'inclusione progressiva di tutti dentro una sfera unitaria, che è la cittadinanza, e che è lo Stato sociale. tendenzialmente si perde l'elemento del conflitto, che vuol dire l'elemento del partito, l'elemento della parzialità. Tante vere, ma forse voi guardate, la Costituzione della Repubblica Italiana, che è indiscutibilmente democratica, senza sé, senza male, dà ai partiti uno spazio piccolissimo, sotto il profilo formale. Cioè, gli articoli, la serie di articoli che si succedono nella politica, partito e nominato una volta, concorrono con metodo democratico alla formazione della volontà politica nazionale. Grazie. Da esserci a non esserci è la stessa cosa. Quella menzione del partito. L'ironia, invece, l'ironia è anche il segreto del buon funzionamento della Prima Repubblica, stando il fatto che la Prima Repubblica, quella che ha inventato la Costituzione, che ha inventato la democratizzazione del capitale, la democratizzazione dello Stato, ha funzionato solo ed esclusivamente perché era formata sul partito. Perché era fondata sulla parte, sulle parti. Perché è stato un fortunato incrocio fra le tendenze, come dire, universalistiche della democrazia moderna e dunque le tendenze della democrazia moderna a spegnere i conflitti. Una volta che i conflitti hanno ottenuto il loro obiettivo, cioè fare arrivare tutti all'uguaglianza, questa tendenza da una parte e dall'altra, per quelli che era fra questa tendenza da una parte e dall'altra il fatto che tutto quello che si fa in politica ha bisogno di energia. E la nostra Costituzione per fortuna è nata per fortuna, non lo so, perché poi è stata un'energia particolarmente sgradevole, ma insomma è nata da, come dire, un'esplosione di energia che è stata la guerra civile, la resistenza. Vogliamo dire, è nata attraverso una grande decisione costituente del popolo italiano che ha escluso ipotesi, che ha escluso forze, ha escluso persone. E questo è il popolo che escludeva e decideva e escludeva che erano sostanzialmente i partiti, partiti, detto come l'ha detto, del CLN, che erano i padroni della Repubblica perché l'avevano inventata loro, perché erano loro che avevano dato l'energia politica a questa Repubblica per nascere, perché la Repubblica non è nata dal gesto generoso di un sovrano che ha detto va bene, oggi c'è la Repubblica. La Repubblica se la sono fatta i cittadini dal basso, attraverso, esercitando il cuore della politicità che è la parzialità. Certo, è una parzialità molto estesa, l'arco costituzionale prendeva, che so io, il 90% delle forze parlamentari, però, insomma, la nostra Costituzione è una Costituzione da una parte neutralizzante, uguale, dignità, tutto quello che volete, dall'altra profondamente segnata dall'elemento della parzialità. cioè dall'elemento della conflittualità, grazie, dall'elemento della conflittualità. Tant'è vero che gli elementi di conflittualità presenti sono chiarissimi nei principi fondamentali, che sono principi che orientano la Costituzione, non la rendono un modello di Costituzione neutra che va bene per fare tutte le cose, ma, al contrario, le danno una direzione, una direzione antifascista. Sono presenti in modo esplicito nella parte delle disposizioni transitorie finali, dove si escludono esplicitamente le due soluzioni che, con tempistica differente, sono le soluzioni che sono state escluse, l'una con le armi e l'altra con il referendo, cioè il fascismo e la mortiera. Per cui, la nostra Costituzione è un miracolo di equilibrio fra la tendenza moderna alla inclusione attraverso processi di neutralizzazione e, invece, la persistente parzialità della politica. E questo ha fatto sì, e questo è stato reso possibile, questo miracolo di quelli che aveva funzionato solo perché a comandante nella prima repubblica c'erano i partiti che erano, come voi sapete, molto diversi fra di loro e distanti, ma la loro distanza, poi vista con gli occhi di oggi lo capiamo, era ben poca cosa rispetto alla loro vicinanza. Scelta di civiltà, l'Occidente e il mondo socialista, no, no, la cosa che importa non era che avessero dei referenti internazionali, questo importa a un secondo livello, ma a livello sostanziale quello che importa era che avevano fatto insieme la resistenza, avevano fatto insieme la Costituzione e lo sapevano e costituivano lo snodo politico fondamentale tra il popolo italiano e le istituzioni e certo questo produceva dei problemi e le istituzioni infatti senza i partiti hanno smesso di funzionare e ciò davanti a cui siamo è descrivibile in effetti così. Tutti i critici conservatori si sono inventati in termine partitocrazia o scena partitocrazia, benissimo, una volta che sono scomparsi i partiti le istituzioni non hanno più funzionato e allora si è detto non hanno più funzionato perché sono state messe come si dice in serie, la Costituzione le mette in serie popolo potere legislativo potere esecutivo per cui è chiaro che questa serie funziona solo se è tenuta insieme dal partito una volta che delmeno il partito bisogna disassare bisogna tenere il popolo fuori lasciamo perdere comunque disassare l'esecutivo dal legislativo da cui tutti i nostri tentativi di fare di passare dalla Repubblica parlamentare a una Repubblica di costituzionalismo puro tentativi che non sono mai andati a buon fine ma una parte radicale dei critici della prima Repubblica che sono rimasti dentro la seconda è è tutto sbagliato bisogna fare come negli Stati Uniti sostanzialmente l'esecutivo va da una parte con una sua legittimazione e il legislativo va da un'altra con una sua legittimazione oppure c'è stato il tentativo siccome non ci sono più i partiti la serie non sta più insieme il popolo legislativo esecutivo non sta più insieme facciamo semplicemente questo facciamo saltare il legislativo e facciamo che il popolo si elegge sostanzialmente il legislativo che è dentro questo che noi stiamo vivendo oggi cioè la trasformazione del legislativo in qualche cosa che non serve a niente perché quello che conta è l'esecutivo come il vertice dell'esecutivo e il suo rapporto col popolo naturalmente questo in assenza dei partiti ha un nome specifico che è populismo o demagogia come vuole noi siamo dentro questo siccome ci siamo dimenticati che la democrazia è neutralizzazione ma anche conflitto e non abbiamo più lo strumento che teneva in equilibrio la neutralizzazione cioè lo stato sociale e il conflitto cioè che consentiva il fatto che dentro l'impianto costituzionale ci stessero dei conflitti e voi lo sapete ne avete fatti senza essere eversori siccome però perché ma perché l'impianto costituzionale non sta in piedi da sotto perché c'erano i partiti che lo tenevano in piedi adesso siamo qui che vediamo che il capitalismo ha smesso di lasciarsi democratizzare non ne vuole più sentire parlare di lasciarsi democratizzare non se lo può più permettere tutta la faccenda del toyotismo è nata perché col fordismo perdevano a un certo punto non si può più permettere nulla al capitale riesce soltanto a moltiplicare se stesso al prezzo di distruggere tutto quello che intorno ad esso è nato in età moderna cosa di cui al capitale nulla importa il capitale non è non è né di testa né di sinistra non è né bianco né nero è è come un virus che è ha un nel proprio DNA ha un imprinting ha un codice di replicazione può fare solo una cosa no? incrementare se stesso a ogni prezzo a ogni costo distruggendo parti di se stesso per rifarne altre dislocando si spostano cioè è una bestia fuori controllo lo è sempre stato cioè il diciamo così il controllo dall'interno le teorie del mercato che si autoregolano sono delle parzellette alle quali non credono per primi i capitalisti sei i quali dicono no io se posso mangio tutto e mangio tutti perché se no quell'altro mi mangia ma l'avete mai visto un cinese come è fatto? cioè sono fasi di equilibrio rarissime quelle in cui al capitale conviene o il capitale è costretto a lasciarsi imbrigliare dentro un ordine che non è il suo che poniamo all'ordine dello Stato peggio ancora quando l'ordine dello Stato è pure l'ordine è uno Stato democratico lo scontro tra il capitale e lo Stato non è uno scontro democratico era una cosa che aveva a che fare col fascismo il fascismo è lo scontro del capitale contro lo Stato è la pretesa dello Stato di comandare sul capitale la democrazia non c'entra niente l'idea che il capitale sia una bestia una potenza una potenza priva di controllo è una idea vecchia poi la si può controllare ovviamente con la politica la politica può essere politica autoritaria totalitaria e allora hai il capitale che si piega agli interessi dello Stato voi direte non è vero beh insomma insomma ci sono delle fasi in cui al capitale fa comodo che ci sia uno Stato forte ci sono delle fasi in cui avrebbe preferito un altro tipo di Stato e si è dovuto tenere quello per un po' poi certamente da quel punto si possono scoprire liberali e chiedere uno Stato non autoritaria insomma l'idea che lo Stato va contro il capitale non è una idea democratica la democratica è che lo Stato democratico trova a frenare il capitale e allora ci vuole una base di democrazia che democraticizzi tanto lo Stato quanto il capitale abbiamo già detto questa base erano sostanzialmente i partiti senza questi noi abbiamo oggi siamo senza partiti è un capitale che non si vuole lasciare democratizzare dice che la democrazia costa troppo sostanzialmente è un onere la democrazia è un onere i cinesi non ce l'hanno e vanno benissimo noi non possiamo competere con i cinesi avendo anche sta storia della democrazia voi direte è di corta veduta e certo il capitale è di corta veduta che non ha alcun bisogno di avere una lunga veduta il singolo capitalista dovrebbe averla perché vuole sopravvivere come essere umano ma il capitale come macchina sa che sopravvive comunque come la evoluzione la evoluzione della materia vivente produce continui sperimenti falliti che non importano proprio a nessuno quello che importa è che questa evoluzione della materia vivente continui per cui non c'è alcun bisogno di disegno intelligente nell'evoluzione questa evolve e produce quel che produce il capitale è uguale produce continua a riprodurre se stesso in forme sempre diverse Marx queste cose le sapeva benissimo Marx le ha viste nascere praticamente il meccanismo quando dice il capitale taglia recide i variopinti legami cioè il capitale deforma toglie le forme toglie i vincoli tradizionali è rivoluzione permanente quella si è rivoluzione permanente a che prezzo non c'è non è problema di prezzo il prezzo è anche che i capitalisti vengono travolti il punto non è il singolo capitalista lo sa che può venire travolto da un momento all'altro per quello è così cattivo è così cattivo è così cattivo è così cattivo è così cattivo